L'audizione di ieri del Ministro Nordio, sono balle che le intercettazioni giudiziarie siano più sicure rispetto a quelle preventive. Qual è il rischio che lei vede in questa norma che è stata inserita nella manovra? Il Ministro Nordio fa parte di una maggioranza che ha un programma di governo ben preciso, smantellare tutti i controlli di legalità sulla corruzione. Abbiamo cominciato a togliere dalla legge sull'ergastolo stativo anche le associazioni a delinquere finalizzate alla corruzione. C'è il progetto di abolire il reato di abuso d'ufficio e traffico di influenza illecito, che sono la cassetta degli attrezzi della corruzione. Si sta preparando un codice degli appalti che apre spazi di discrezionalità incontrollata per la gestione degli appalti e si sta demonizzando il settore dell'intercettazione giudiziaria della magistratura. Nordio ci ha molto sorpreso perché lui ha affermato che ritiene più garantiste le intercettazioni dei servizi segreti che vengono fatte senza specificare un reato, senza indicare i presupposti di quella intercettazione, che vengono richieste a un organo, il procuratore generale della corte d'appello di Roma, che non ha nessuna conoscenza delle indagini che vengono svolte nei vari territori, a Palermo, a Milano, e che quindi può autorizzare anche delle intercettazioni su persone che sono, per esempio, oggetto di intercettazione della magistratura. Un organo che non ha nessuna competenza in materia di mafia e di antiterrorismo, come per esempio il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, quindi un organo cieco, tra virgolette, di controllo, che non può controllare sostanzialmente niente. Il fatto che le intercettazioni dei servizi segreti siano più garantiste è veramente sorprendente, perché siccome non c'è lo stesso rigoroso controllo che viene fatto sull'intercettazione della magistratura, la richiesta viene formata al pubblico ministero, devono essere rilasciate da parte di un giudice, possono essere dichiarate nulla dalla corte di Cassazione, mentre invece nulla di tutto questo è previsto per le intercettazioni dei servizi segreti, dunque la privacy dei cittadini non sarebbe messa in pericolo dalle intercettazioni dei servizi segreti che sono fuori controllo, ma sarebbe messa in pericolo dalle intercettazioni della magistratura che invece sono controllatissime, quindi la sensazione che si ha è che il ministro e la sua maggioranza non abbiano timore della violazione della privacy, ma del fatto che certe informazioni, certe intercettazioni concernenti il reato e che riguardano la corruzione possono essere conosciute dall'opinione pubblica. Allora il vero problema è la conoscibilità da parte dell'opinione pubblica di attività di corruzione che emerge grazie alle intercettazioni giudiziarie, mentre invece se queste corruzioni emergono in intercettazioni dei servizi segreti restano segrete e non conosciute. Quando abbiamo chiesto se lui era d'accordo con il nuovo codice degli appalti ha risposto certo perché si tratta semplicemente di semplificare e di semplificando eliminare le filiere che possono portare alla corruzione, ma come si fa a fermare questo? Quando il nuovo codice degli appalti in contrasto a quello che aveva previsto il Consiglio di Stato ha consentito, consente ai sindaci di poter fare affidamenti diretti di appalti da 150.000 euro a 500.000 euro. E per di più si vuole eliminare il reato di abuso d'ufficio, quindi immaginiamo cosa diventa un sindaco per il crimine organizzato per le grandi rete corruttive. Chi riesce a prendersi il sindaco apre la cassaforte del comune. Con il PNRR qual è il rischio che lei vede legando tutta l'attività che vuole fare il governo rispetto alla giustizia, già dei reati? Sono tornati i soldi, sono tornati i soldi e c'è l'assalto alla diligenza. E mi pare che tutto si muove in una direzione. Abbassare il rischio di incriminazione penale e il costo dei reati in materia di corruzione. In una fase come questa in cui dovremmo alzare la soglia, incrementare i sistemi di controllo, questa maggioranza sta facendo esattamente il contrario, con il codice di appalti, eliminando i reati contro la pubblica amministrazione che servono per la corruzione. Si vogliono eliminare le intercettazioni della magistratura che sono l'unico strumento che riesce a forare l'omertà blindata dei colletti bianchi che è superiore a quelli mafiosi. Perché senza le intercettazioni non si riescono a scoprire questi reati. Mi pare che proprio si vuole in questo momento da una parte disarmare la magistratura e dall'altra parte aprire vaste praterie a tutto quel mondo dei colletti bianchi che in questo momento è tornato ad avere la possibilità, dopo anni di austerity, di mettere le mani sui soldi pubblici. Se noi velocizziamo le procedure ma limitiamo e abbattiamo tutti i controlli, il problema è ma quanti dei soldi del PNRR arriveranno a destinazione e cioè saranno destinati alle loro finalità pubbliche e quanto invece finirà nel buco nero della corruzione e della gestione clientenale del mondo pubblico con una Commissione europea che ha spessamente raccomandato all'Italia di elevare tutti gli strumenti che servono contro la corruzione proprio per garantire che i fondi del PNRR arrivino a finalità pubblica noi stiamo facendo esattamente il contrario. Il Presidente Meloni ma anche il Sottosegretario Mantovano hanno detto non dobbiamo disturbare chi vuole fare. Non dobbiamo disturbare chi vuole fare i soldi appropriandosi del denaro pubblico potremmo dire perché non sono certamente le intercettazioni della magistratura non sono certamente i reati contro la pubblica amministrazione che possono impedire la velocità nell'assegnazione dei fondi. Un miliardo di euro di corruzione significa un miliardo in meno per i posti letto negli ospedali, per gli asili nido, per le pensioni. Questo significa una corruzione che è uno dei principali cancri del nostro Paese che contribuisce a disarticolare quel poco di stato sociale che ancora abbiamo e che va deperendo giorno dopo giorno perché abbiamo la più grossa evasione fiscale d'Europa e una delle più elevate corruzioni d'Europa. Dinanzi a questo noi stiamo andando elevando il tetto del contante a 5.000 euro per le transazioni, si parla di depanalizzazione dei reti tributari, si allargano le maglie per la corruzione, sembra veramente di vivere in un altro Paese e non in Italia.